Buon pomeriggio dal Tg della Mobilità. Da lunedì sulla ferrovia Roma Lido sarà intensificato il servizio dei treni tra le stazioni di piramide e Lido Centro e su questa tratta sarà attivato un orario invernale speciale. Dal lunedì al sabato sarà invece sospesa la tratta Lido Centro Colombo che verrà sostituita dai bus. Nei giorni festivi il servizio ferroviario sarà garantito sull'intera linea. Maggiori dettagli sul sito romamobilita.it. Le altre notizie domani e domenica in centro parte la sperimentazione di un nuovo percorso pedonale che da piazza dei Cinquecento raggiungerà i fori imperiali passando per il rione Monti, via Urbana, via Leonina e via della Madonna dei Monti. Per l'occasione via dei fori imperiali sarà chiusa al traffico per due giorni domani e domenica. Il fine settimana pedonale proseguirà poi domenica con via Libera, 15 km di strade chiuse al traffico tra centro, via Tiburtina e via Piantica dalle 10 alle 19. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.